signorina un delicato così andrebbe lavato a mano ma su quello sporco ci vorrebbe un detersivo forte no ci vuole il nuovo perlana gel la sua formula in gel è efficace sullo sporco ma delicata su tessuti e colori così anche in lavatrice saranno lavati con amore che pulito e che colori questo delicato sembra nuovo visto è tutto in un solo lavaggio nuovo perlana gel la forza delicata passate parola